La nuova Serie 7, tra i molti impieghi, garantisce elevate prestazioni di comfort e affidabilità in fase di trasporto. Ad esempio, i tiranti posteriori del sollevatore hanno una posizione predefinita per il trasporto, che evita di farli interferire con il timone del rimorchio anche con gli angoli più stretti di manovra. Per rendere più sicuri i trasporti per strada anche con i rimorchi più pesanti, abbiamo progettato ed implementato sulla Serie 7 TTV un sistema chiamato TBM, che agisce sul trattore e sul sistema di frenatura pneumatica rimorchio. La TBM rileva la decelerazione del trattore, la confronta con altri parametri per adattare la pressione applicata al freno pneumatico rimorchio quando il conducente preme il pedale. La dinamica della frenata avviene in due fasi. Nella fase 1, quando il trattore affronta una discesa, l'inclinometro a bordo lo segnala il sistema TBM, che provvede a precaricare l'impianto di frenatura pneumatica del rimorchio. Fase 2. Nel momento in cui l'operatore preme i pedali dei freni, il circuito precaricato inizia subito la fase frenante, anticipando i tempi ed evitando il pericoloso effetto dell'occhione che preme sul gancio. Ne migliora la stabilità, la reattività e lo spazio di arresto richiesto. Ulteriori dispositivi che migliorano la sicurezza in trasporto sono i freni a disco a secco esterni, il ponte anteriore sospeso, che migliora l'aderenza degli pneumatici al terreno, e il freno motore, che aiuta la decelerazione del veicolo senza sollecitare l'impianto frenante.